Ciao ragazzi, in questo video vediamo come lanciare un progetto NFT sulla mainnet di Solana, quindi sulla rete reale. Se siete interessati a questo tipo di video, lasciate like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi altri video sempre di questo mondo. Inoltre, scrivetemi qui sotto nei commenti se volete che porti ulteriori video sempre su Solana, su come creare una whitelist e magari anche su come dare uno stile diverso, quindi migliorare l'estetica del sito web. Ci tengo a specificare che questa non è una guida completamente da zero, ma andrà ad integrare il contenuto di quest'altro video dove spiego come caricare il tutto sulla devnet invece che sulla mainnet. Effettuati già i passaggi in quel video, vi basti sapere che per caricarli su una rete reale, ovvero sulla mainnet beta, qui al posto di storage rwave vi servirà lo storage rwave-sol. Fate CTRL-S o CMD-S su Mac per salvare e poi dovrete settare alcune impostazioni. Ad esempio, per cambiare l'indirizzo dal quale verranno presi i soldi per mettere online questa candy machine, soldi che comunque poi vi verranno ridati indietro, dovete scendere fino a dove avete creato un vostro portafoglio oppure crearne uno nuovo, fare tasto destro, copia percorso, e qui selezionare solana config set-kpair e poi fare CTRL-V del percorso che si è copiato e poi lanciare invio. Ed ecco che il keeper path è stato cambiato con quello da noi specificato. Ora però dobbiamo cambiare l'RPC URL. Per farlo andate nel vostro browser, andate nel link che vi lascio qui sotto in descrizione e qui digitate RPC. Scendete un po' qui sotto fino a trovare questo DevNet e TestNet. Cliccate e scendete un po' giù fino a trovare Mainnet Beta. Selezionate e fate CTRL-V di questo RPC, poi tornate su Visual Studio Code e lanciate il comando solana config set-url e poi quelle RPC. Cliccate invio ed ecco che non solo il keeper è quello che noi abbiamo scelto, ma anche le RPC URL e il WebSocket URL saranno stati modificati con quello da noi inserito. Il WebSocket URL non c'è bisogno di inserirlo a mano perché è calcolato direttamente dal PC una volta inserito l'RPC URL. Se vogliamo verificare di essere davvero passati alla Mainnet, vi basterà digitare il comando solana balance. Ed ecco che dice che nel mio portafoglio sono presenti 0,017 sol. Per verificare andiamo nel browser dove abbiamo importato il nostro portafoglio, clicchiamo su phantom ed ecco che qui ci darà i nostri fondi. Però se ci fate caso qui mi dà 0,22 e non 0,017. Questo perché il phantom wallet è ancora settato sulla DevNet. Andate qui dove c'è la rotellina delle impostazioni, scendete Change Network e da DevNet passate a Mainnet Beta. Ecco che adesso il bilancio è giusto, 0,017. E adesso per mettere tutto online dovrete semplicemente seguire la procedura che si trova nell'altro link che vi lascio in descrizione, scendendo qui in basso Candy Machine V2 e scendendo ancora più in basso in Creating the Candy Machine. Fate attenzione che qui sotto vi dice che si prende 0,00167 sol circa per ogni NFT. Quindi per una collezione da 10.000 NFT si prende 16,7 sol. Che se andiamo a verificare con il converter di CoinMarketCap sono 639 dollari. Però dovete star tranquilli perché una volta che tutti i vostri NFT saranno mintati o comunque quando volete buttar giù la Candy Machine potrete far partire questo comando che si trova qui sotto in WithdrawRent e digitando questo comando che si trova sotto la voce Withdraw riceverete tutti i vostri soldi indietro. Tranne una piccola cifra che si tiene R-Wave ovvero lo storage PFS che noi andremo ad utilizzare che quella non ci tornerà indietro ma che comunque è abbastanza irrisoria considerando che si parla di 10.000 NFT. Adesso andiamo avanti e qui andiamo in Creating the Candy Machine, scendiamo sotto e troviamo questo comando. Quindi digitiamo ts-node, poi saliamo qui fino a trovare Candy Machine V2 CL, copia percorso e lo incolliamo qui. Seguito da "-e mainnet vita", poi "-k", e scendendo qui sotto fate tasto destro, copia percorso dello stesso wallet che avete utilizzato da mettere qui sotto nel Key Pay Path, fate Ctrl V, "-cp", e poi dobbiamo prendere il contenuto di questo file che abbiamo appena modificato mettendo R-Wave-Sol invece di R-Wave. Quindi saliamo un po' qui sopra fino ad arrivare ad Example Candy Machine. Fate tasto destro, copia percorso, qui lasciate uno spazio ed incollatelo. E poi dobbiamo andare ad inserire il percorso degli asset che noi vogliamo trasformare in NFT. Andiamo quindi qui dove c'è la cartella Assets, tasto destro, copia percorso ed incolliamolo qui. Mi stava dando errore perché io qui ho eliminato whitelist in settings, due punti, null, quindi voi reinseritelo e questo non vi darà nessun errore. Tra l'altro è già specificato anche in Configuration della Candy Machine nel Docs Metaplex, scendendo qui sotto, dove vi fa vedere un esempio di come deve essere configurato questo file. Mi raccomando, non cliccate niente, almeno finché non apparirà il messaggio che vi dirà che tutto è andato a buon fine. Per qualche motivo qui mi dice che non è andato a buon fine perché ci ha messo più di 60 secondi a verificarlo. Però ecco che andando qui avanti ci dà un check signature, ovvero un indirizzo che noi possiamo copiare, andare nel browser in Solana Explorer e una volta entrati in Solana Explorer possiamo fare ctrl-v di questo indirizzo, cercarlo e qui ci dice che in realtà il risultato è stato success. Quindi qui il messaggio dice che non è andato a buon fine, ma se controlliamo qui c'è scritto che non sanno se è andato a buon fine oppure no. Quindi dobbiamo verificarlo noi manualmente ed avendolo verificato a me dice che in realtà tutto è andato a buon fine. Saliamo un po' qui sopra e io vi consiglio sempre di prendere almeno da qui, da beginning, fino a scendere qui sotto e salvare tutto quello che vi viene scritto. Facendo ctrl-c e magari andando qui in Metaplex Master, tasto destro, nuovo file, chiamarlo magari info.txt e all'interno incollarci tutto quello che avete copiato. Adesso prendete questo, il Candy Machine Address, fate ctrl-c e salite qui sopra fino ad arrivare a Candy Machine UI, apritelo e cliccate questo file .inv. In realtà se lo state facendo per la prima volta questo si chiamerà .inv.example, ma se avete seguito l'altro tutorial vi faccio vedere come modificarlo. Qui in React App Candy Machine ID dovrete incollare quell'indirizzo e poi qui sotto al posto di DevNet dovrete mettere Mainnet-bita e qui sotto al posto di HTTPS API DevNet dovrete mettere l'RPC della Mainnet, sia questo che quest'altro qui sotto. Poi in realtà volendo si possono comprare, ed è consigliato per collezioni molto grandi, degli RPC personalizzati. Da inserire comunque qui dentro, poi fate ctrl-s, tornate qui sotto, digitate cd per cambiare directory, tasto destro su Candy Machine UI, copia percorso e lo incollate qui nel terminale. Date invio. Adesso che vi trovate a questo punto digitate il comando yarn start. Dopo un po' di tempo vi aprirà in automatico il browser predefinito del vostro computer e aspettando ancora un altro po' di tempo in localhost sulla porta 3000 vi apparirà il sito web tramite il quale mintare questo NFT. Ora a me è apparso questo sito che io oscurerò che ho creato per una collezione di NFT che ho lanciato per conto terzi, ma la cosa importante è vedere che qui sotto ci sono due NFT disponibili e 0.2 è il prezzo di ogni NFT. Ora però io non posso mintare nessun NFT perché a questa cifra io non ci arrivo. Quindi se voleste cambiare il prezzo dei vostri NFT basterà andare sempre qui su Docs Metaplex, scendere qui sotto in update the Candy Machine e vedere che questo è il comando per modificare la Candy Machine. Torno di nuovo su Visual Studio Code fino ad arrivare all'example Candy Machine, salgo qui sopra dove è settato il prezzo e facciamo che lo metto a 0,0001. faccio ctrl s per salvare, poi vado qui, apro un altro terminale e adesso digitiamo il comando per modificare la Candy Machine. ts-node, tasto destro su Candy Machine V2, copia percorso e lo incolliamo qui, poi digitiamo update-candy-machine, meno e mainnet-bita, meno k è l'indirizzo del wallet tramite il quale stiamo caricando questi NFT e poi meno cp e dobbiamo andare ad inserire il percorso di questo file dove abbiamo appena modificato il prezzo per singolo NFT. Una volta fatto clicchiamo invio. Aspettiamo un po' che questo procedimento vada a buon fine e quando apparirà questo messaggio update-candy-machine finished posso tornare nel browser e vediamo come il prezzo adesso è cambiato. Ora posso cliccare il pulsante di mint perché è abbastanza rispetto a quello che ho nel wallet e una volta cliccato mi chiederà di approvare la transazione, io la approvo e aspetto un po' che questo NFT mi venga mintato. Quando apparirà questo messaggio congratulations mint succeeded io posso andare nel mio phantom wallet, andare qui sotto in questa casella e qui apparirà il mio NFT. Adesso non c'è ma questo è un problema di phantom wallet che ci mette un po' a ricaricare. Infatti se esco e poi rientro, torno in questa sezione, dovrei vedere ecco qui infatti il mio NFT è comparso con il nome che io gli avevo dato, scendendo qui sotto con tutti gli attributi e volendo con questo pulsante posso inviarlo ad altri utenti. Poi volendo posso andare sul mio profilo di OpenSea, accedere con questo account di phantom wallet e scendendo qui sotto ecco che trovo l'NFT che è appena stato caricato e da qui posso farci sostanzialmente tutto quello che voglio. Ed anche questo tutorial termina qui. Lasciate like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi nuovi video sempre inerenti a questo mondo. Io vi saluto e alla prossima. Ciao! 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 Ciao!